Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il 2023 potrebbe finalmente portare chiarezza sul mistero della scomparsa di Kata, la piccola bambina di origini peruviane di cui si sono perse le tracce lo scorso giugno nell'ex hotel Astor di Firenze. Dopo mesi di indagini e piste infruttuose, i carabinieri stanno attualmente concentrando gli sforzi su un presunto abuso sessuale su una minorenne. Un evento che potrebbe aver scatenato la vendetta di uno dei clan che si contendevano la struttura abusiva. L'autore dell'abuso, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe una persona vicina alla piccola Kata, suggerendo la possibilità che la sua scomparsa sia stata una ritorsione. Quest'ultima ipotesi, come molte altre avanzate nel corso delle indagini, è da trattare con cautela. Gli investigatori stanno attualmente esaminando il caso alla ricerca di riscontri che possano gettare luce sulla scomparsa della bambina di soli cinque anni. Le precedenti piste legate al racket degli affitti o a possibili rivalità tra clan sembrano essere state escluse. Al centro dell'attenzione degli investigatori rimangono gli zii di Kata, il fratello della madre e quello del padre, che erano stati precedentemente indagati dopo il ritrovamento di macchie nelle loro stanze. La ricerca di risposte continua mentre si cerca di svelare la verità dietro questo tragico mistero.